gentili signore e signori ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento giornalistico pianeta oggi reporter ai microfoni in studio massimo bonella trasmissione che ricordo venendo in collaborazione con un circuito di radio televisioni terrestre per quanto riguarda le televisioni abbiamo dal veneto eden tv a seguire tele idea da chianciano terme da dove è nata questa trasmissione quindi teleambiente di roma e tele iato di palermo la nota o news diretta da pino maniaci per quanto riguarda le radio abbiamo dal frio venenza giulia radio piper fontana fredda una emittente radiofonica interregionale a seguire rnm di pordenone e quindi science web network che è una emittente di treviso radiofonica e televisiva online veniamo ora al tema di oggi palermo di arte ovvero del primo colore in occasione di una interessante mostra artistica che si era tenuta in località burgnera siamo in provincia di pordenone organizzata dall'associazione culturale terra mater abbiamo intervistato la presidente dell'associazione la dottoressa maria marzullo seguirà poi una intervista a due studentesse queste interviste sono state curate da margherita furlan possono partire subito tutti i nostri servizi vediamo insieme colui che doveva sapere precisamente quello che doveva fare effettivamente doveva essere ben sapere ora andiamo alla bottega dove abbiamo un attimo allora la conferma che sia la pislazuli c'è dato da questi cristalli luminescenti che sono esattamente cristalli di pirite che abbiamo visto nell'immagine al microscopio raffigurata e che macroscopicamente la pirite si presenta con questa granulometria siamo qui con la signora maria marzullo dell'associazione terra mater di cui è presidente maria di cosa si occupa terra mater terra mater è nata nel 2011 è nata come un'associazione culturale nel 2012 siamo stati riconosciuti come associazione di promozione sociale questo ha aumentato maggiormente la la mozza la motivazione la missione dell'associazione un'associazione che si occupa di cultura in senso stretto di arte di etica e di spiritualità il senso pratico organizza conferenze visite guidate affronta tematiche che possono andare appunto dall' informazione sociale a quella alimentare a quella medica quella culturale di ogni genere ogni tematica anche quella del mistero ci interessa e cerchiamo di approfondirla l'obiettivo è quello di portare conoscenza cultura non noi direttamente ma fornendo i mezzi perché l'informazione possa essere alla portata di tutti per noi è fondamentale avete un sito internet sì il nostro sito realizzato da un nostro associato è www.blogterramater.it è un sito che cerchiamo di tenere sempre aggiornato al quale abbiamo nel quale abbiamo inserito anche dei link amici come appunto pianeta oggi tv stiamo cercando di fare rete cerchiamo di fare rete perché la conoscenza l'informazione la cultura è rete da soli non siamo niente non possiamo fare molto siamo qui a villa barda a brugnera dove si svolge questa mostra intitolata primo colore di cosa si tratta primo colore quest'anno è giunta la sua seconda edizione è nato come un progetto di mostra itinerante un progetto che è una mostra didattico sperimentale scientifica cosa intendo da un lato è rivolta a un pubblico ampio dal mondo della scuola fino ai 90 anni io sostengo che primo colore vada dai sei anni fino ai 90 tutti hanno la possibilità di conoscere come è nato il colore sostanzialmente la materia che compone il colore in particolare i pigmenti c'è un percorso guidato le visite sono gratuite in cui viene spiegato da personale comunque formato nell'ambito mineralogico e didattico viene spiegato come si ottenevano le polveri famose colorate dalle pietre e non solo quindi tutti possono partecipare e oltre a questo percorso guidato più teorico c'è poi un'esperienza laboratoriale cosa vuol dire quello che viene detto viene fatto crediamo nella cultura del fare dove non ci debba essere soltanto un pubblico di ascoltatori passivo ma un pubblico dinamico che abbia la possibilità di sperimentare in diretta quello che ha appreso durante un percorso didattico durante un'esposizione e per questo che primo colore ci ha dato una grande sorpresa quello di fornire degli strumenti di conoscenza dei contenuti culturali scientifici ma anche quello di unire le famiglie in quanto i bambini si sono ritrovati sia con il mondo della scuola sia con il mondo del familiare con parenti con amici a ripetere l'esperienza del laboratorio quindi a dipingere insieme e questo non conosce i confini non ha barriere e crediamo nella libertà anche in quella culturale. Qual è stato l'approccio dei bambini verso il colore ne ho visti diversi oggi qui? Tanta curiosità tanta voglia di sperimentare tanta voglia di fare e non hanno assolutamente paura vogliono assolutamente cimentarsi in quello che gli viene proposto a differenza del mondo degli adulti o comunque del sistema culturale che cerca un attimo sempre di scatolare elementi dei più piccoli anche degli adulti i bambini hanno sono creativi sono delle anime creative e trasmettono questa passione questa energia che un po poi vibra nel contesto dell'esposizione e che Primo Colore appunto cerca di portare in tutti i posti nei quali viene realizzata. Siamo qui con Georgiana neodiplomata all'istituto d'arte di Cordenons che ha la sua prima esperienza in ambito professionale a primo colore. Quali sono state le tue sensazioni Georgiana? Beh quando Maria mi ha proposto di collaborare come guida a questa mostra per me è come se mi sia aperto un mondo perché è stata la mia prima esperienza di guida e io anche con il mio carattere un po' timido è come se avessi affrontato un ostacolo a spiegare persone anche concetti molto semplici però che possono aprire nuove esperienze e quindi io ringrazio Maria anche per avermi offerto questa bellissima opportunità è stata bellissima questa esperienza davvero. Nell'ambito dell'evento Primo Colore dell'associazione Terra Mater siamo qui con Maria, giovane laureata in storia dell'arte di Pesaro che per la seconda volta collabora all'interno di questo evento. Come mai Maria da Pesaro qui per la seconda volta? Allora sono stata coinvolta all'interno del progetto Primo Colore già nella prima edizione del 2012 e quest'anno naturalmente ho riconfermato la mia presenza qui quello che muove questo progetto innanzitutto l'amore verso l'arte e soprattutto la conoscenza nei confronti dell'arte in particolar modo della parte forse più nascosta e più difficile che è quella pratica cioè come nasce il colore come nasce tutto il processo artistico che c'è dietro una grande e una piccola opera d'arte quindi è la passione sostanzialmente che ha mosso me così come altre persone fin qui nella zona di Bruniera al Canebon per organizzare questa mostra. Posso chiederti i tuoi obiettivi professionali e di vita nel futuro? Sono legati sicuramente anche a questa associazione con la speranza che si possa realizzare anche altri molti altri progetti insieme e naturalmente continuare su questa strada quella della passione di trasformare anche questa passione in lavoro quello che preme anche a molti che come me si sono laureati diplomati nel settore culturale e che adesso come adesso non riescono magari a trovare facilmente uno sbocco. Riprendiamo per un attimo dallo studio vi ricordo che all'interno della mostra era presente anche l'associazione Funima International una onus rappresentata dall'artista Sonia Siste il sottoscritto si è avvicinato per qualche domanda. Vediamo. Ecco vedete inquadrata Sonia Siste un'artista anche lei rappresenta qui in questa occasione in questa manifestazione di Terra Mater anche la Funima International questa associazione culturale. ricordiamo che il sito internet è funimainternational.org e gli chiediamo subito a Sonia perché Funima qui all'interno di questa mostra. Sì, sì, buonasera. Dunque dicevamo che la Funima International è un'organizzazione non a fini di lucro che lavora dal 2005 soprattutto nell'America Latina e che ha sostegno dei bambini per l'appunto che vivono momenti e difficoltà particolarmente forti. L'abbiamo visto infatti da queste immagini che prima... Sì, con la mostra ci siamo voluti dedicare in maniera particolare ad un centro polifunzionale che è ad Assunción, la capitale del Paraguay, che si chiama Icos del Sole. Questo ospita appunto bambini di strada. Le maggiori problematiche di questi bambini sono l'abbandono, la dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcol, gli abusi sessuali e psicologici e ogni forma di degrado che deriva appunto dalla vita in strada. Il centro offre l'accoglienza, una mensa, assistenza sanitaria generica ma anche specialistica e un sostegno psicologico. Ecco, visto che avete anche in esposizione un libro, ce ne puoi parlare? Sì, il libro è il catalogo di questa mostra che è stata realizzata dal fotografo Giovanni Marruzzini che è un fotoreporter di fama internazionale che è stato proprio a visitare Assunción e questo centro e ha realizzato un documento molto interessante che evidenzia lo stato di abbandono e di degrado nel quale versano questi bambini. Il catalogo raccoglie diverse fotografie bianco e nero veramente, veramente interessanti. Riprendiamo da studio, termina qui il nostro approfondimento di oggi. Ringrazio per la collaborazione Margherita Furlan. Prossimo appuntamento con Pianeta Oggi Report e come sempre tra una settimana. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.